Riccardo Fontanesi, Senato a Correggio, Modenese Doc, della San Pustino Rosselli a 11 anni al Sassuolo, oggi l'esodo è assoluto in Serie A, quando è che di Francesco ti ha comunicato stessa ragione? Me l'ha detto venerdì, nel momento di venerdì, che comunque sarei partito dal primo minuto, è stato sicuramente molto emozionante, però ho avuto il tempo per preparare, quindi sono arrivato pronto e carico per tutti. Dovevi sostituire i vari infortunati che sono in difesa e hai potuto permettere all'allenatore il ritorno al 4-3, ma come hai visto la partita di oggi, il Palermo ha avuto la predominanza territoriale. Sì, secondo me nel primo tempo loro hanno comunque, quando non abbiamo guardato l'intero partita, secondo me siamo usciti, abbiamo avuto noi le occasioni migliori con Zaza, con... sì, quindi ha fatto un po' bene, da parte, ho firmato... La fine sei uscito, ma niente di grampi? No, no, grampi, perché era un po' che non gioco, ecco sì, mi erano partiti nel settembre, poi nel settembre, poi nel settembre... C'è una carta in più però per Di Francesco per lo sprint finale di Stato? Sì, spero che il mister lo spavino per noi, sì, per prenderlo.